Tenetevi forte, vi devo dare una brutta notizia. Questa è l'ultima puntata di Attenti a quei due. No, no, non fate scenate. No, 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 per favore. Perché il primo di settembre noi torneremo. Torneremo con tante novità. Però questa è l'ultima puntata, sì, insomma, è l'ultima prima dell'estate. Non so cosa fare, insomma, Attenti a quei due. Buonasera. Buonasera. Ben ritrovati. Allora, ultima puntata, questo vero applauso va a tutti coloro che hanno lavorato, che lavorano per questa trasmissione, quindi tutti i tecnici, tutti i cameraman, il nostro assistente di studio, la redazione, tutti coloro che collaborano per questo programma. Perché voi vedete me, ma in realtà ci sono tantissime altre persone. Grazie anche al produttore Giuseppe Foppa e al regista Fiorenzo Mordasini. Quindi grazie, grazie a tutti per la preziosa collaborazione. È un team che funziona, è un team che ha voglia di fare ed è un team che vi presenta due concorrenti. La prima concorrente arriva da Arbedo e si chiama Federica. Federica!